d'estate la crema al caffè si trova in tutti i bar ma a me piace anche farla a casa quindi la ricetta di oggi è crema al caffè vegana gli ingredienti sono tre e sono semplicissimi caffè solubile zucchero a velo e acqua ghiacciata procuriamoci un contenitore capiente e ci versiamo prima l'acqua accertatevi che si è ghiacciata il caffè solubile e infine lo zucchero a velo e ora sbattiamo il tutto con uno sbattitore ci sono voluti solo un paio di minuti a questo punto potete scegliere il grado di dolcezza questa ricetta è l'ideale se avete ospiti all'improvviso e la crema al caffè è pronta buon dessert ciao 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 ciao